e dopo mamma mia capello bianco e dopo il magnum inferno siamo qui a provare il magnum FURGATORIO ce ne sono tre all'interno il costo è di 4,95 cioè non so se mi spiego abbastanza caro dato che ce ne sono tre all'interno latte burro latte 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 no e aspetta che vediamo c'è scritto sopra candido vel di cioccolato caramello doppio dorato manto ricolmo di gelato biscottato questa è la comprensione di che per eccezione l'assaggio pure io però certo e anche mia madre tutte e tre praticamente ma a me non sono sicura che mi piacerà infatti ce lo dividiamo con mia madre perfetto poi gelato al gusto di biscotto per regatura al gusto di noce pecan guarnitura al caramello salato cioccolato con caramello e pezzetti di biscotto croccante la frase citata questa volta per dante e e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga ecco qua e qui ci sono gli ingredienti come sempre se vuoi puoi fare un fermo immagine per capire di che cosa si tratta abbiamo provato il gelato quello ferrero rocher quello che fanno vedere la pubblicità il dark e a me è piaciuto sul momento però non come il magnum inferno il magnum inferno secondo me però io devo assaggiarlo perché si sta sciogliendo comunque questa è la situazione lo andiamo ad aprire vero mamma questo è come si presenta a di dentro sempre dorato dentro il caramello è salato io ero titubante perché io sì l'ho visto perché ero caramello e dolce solitamente comunque di grandezza non è grandissimo te lo faccio vedere tanto mia sorella mangia questo e questo è di dentro ok e ci do il primo morso non ha saputo resistere aspettare non ho detto nino ha detto un po di più ho detto è dolce per me non ce la faccio vai mamma ce lo posso grazie per me è dolce non già faccio io con mai però non è male è fine ma sì sì tu vai e mi dici io come valutazione mi dovete scusare poi mi darete la vostra opinione però essendo che io amo il fondente il magnum inferno per me è stato eccezionale non mi ricordo quando quanto gli abbiamo dato forse sette e mezzo otto una cosa del genere comunque c'è il video sul canale io su questo 5 ma io 6 invece devo dare no io di più no no è buono gustandola è buono io un sette e mezzo e non c'è in genere il gusto è buono devi gustare c'è il salato si sente ma quando mai si sente ora si io quando l'ho assaggiato subito mi è partito un dolce ma inizio tutto l'assaggino insieme è buono cioè io il salato questa volta non l'ho vertito cioccolato bianco ecco perché a me non piace ecco perché ma questo è cioccolato bianco? cioccolato allora ti dico gelato al gusto di biscotto variegato con gelato al gusto di noce pecan l'abbiamo detto con guarnitura al caramello salato il caramello salato è al 22 per cento cioccolato bianco con caramello è al 26 per cento e pezzetti di biscotto 2,5 per cento fanno già un gelato così? si ed è latte scremato reidratato zucchero secondo ingrediente quindi per questo che io ho allampato nella bocca sciroppo di glucosa ed è sempre zucchero alla fin fine burro di cacao latte scremato in polvere sciroppo di glucosa e fruttosio tanto tanto dolce tu ora mi devi dire la verità ora mi devi dire la verità la mamma mia madre allora mia madre ha assaggiato anche l'inferno tu mi devi dire se è meglio questo o l'inferno? un centro non c'è meglio no 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 deve già valutare deve valutare a me come a te piace il fondente e naturalmente appena l'ho assaggiato il fondente mi è subito entrato nel palato questo è un po' dolce capito? quello era un po' più amaro e quello a noi ci piace di più no comunque io io lo boccio mia sorella lo promuove mia madre lo mezzo a me dipende dipende dai tuoi gusti dipende se tu gradisci il dolce e se lo tolleri se no non te lo consiglio anzi te lo sconsiglio se ti piace il fondente non è cosa per te fidati te lo dice però per me persona intollerante moriva subito dal latte ti devo dire che è delicato va bene intanto che loro finiscono di mangiare noi vi salutiamo stavo dicendo io vi saluto noi vi salutiamo speriamo di averti dato una buona recensione una buona review per farti capire un pochettino come questo nuovo gelato che durerà fino a giugno abbiamo detto fino a giugno e poi da giugno partirà il paradiso che il paradiso già questo fa accadere i denti il il paradiso paradiso e bianco fuori quindi io dico solamente questo e ci vediamo prossimamente con quel video un bacione ciao ciao